Nel 2016 saranno passati 50 anni dall'alluvione di Firenze del 4 novembre del 66. Nell'ambito del progetto Firenze 2016, nato per coordinare le iniziative pubbliche e private in occasione dell'anniversario, sarà l'esperto statunitense Gerald Galloway a guidare un comitato internazionale di ricercatori che offrirà un parere qualificato sugli interventi necessari per prevenire il rischio di alluvioni nel bacino dell'Arno. Sembra addirittura incredibile pensare che a 50 anni dall'alluvione di Firenze sia la prima volta che si raduna un comitato internazionale di esperti per mettersi al capezzale di questo ammalato che è l'Arno in Firenze. Gli altri membri del comitato sono il fiorentino Luca Solari, l'austriaco Gunther Bloch, lo statunitense Marcello Garzia e gli italiani Alberto Montanari e Giovanni Seminara. Firenze è patrimonio del mondo e noi della comunità internazionale vogliamo essere certi che la città resti vitale come lo è oggi anche tra 25 anni. Anche la regione toscana è parte attiva nel progetto Firenze 2016 e porta avanti da anni un programma per la messa in sicurezza del territorio contro il rischio idraulico. Con il semestre italiano alla guida dell'Unione Europea qualcosa cambi da questo punto di vista e si considerano gli interventi sulla difesa del suolo come interventi da togliere dal patto di stabilità che rischia di innescare corti circuiti non accettabili.